Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora se vedete che l'inquadratura è un po' diversa o c'è qualcosa di diverso è che perché oggi sto registrando con un'altra videocamera perché è tipo quella che uso di solito, mi sono dimenticata di caricarla e quindi sto usando quella che uso per i vlog comunque, comunque, oggi sono particolarmente emozionata e non riesco a parlare, mi sto rendendo conto in questo momento perché sto per fare il mio primo I Call You come è stata una cosa che mi avete chiesto e non sapevo cosa fossero I Call You, sono andata ad informarmi ed ho pensato che davvero potesse essere una cosa molto molto carina poter, non lo so, contraccambiare, comunque farmi viva con voi, telefonarvi, scambiare quattro chiacchiere quindi su Instagram in direct mi avete mandato dei messaggi privati con i vostri numeri e che devo dirvi sono davvero tantissimi allora mi avete inondata, inondata di numeri di cellulare e io ovviamente non potrò purtroppo telefonare a tutte voi ma solo ad alcune quindi però magari farò altri I Call You, se questo video andrà bene, nessuno mi manderà a quel paese o mi riattaccherà il cellulare quindi sono appunto pronta con il mio telefono, screensaverio e Tomas, etc e adesso mi chiamerò aiuto ci siamo, vi giuro, ho troppa paura, cioè sono super 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 tesa allora, questa è una ragazza che mi ha scritto, mi ha lasciato il suo nome, però mi ha scritto chiamami Nicole, ti seguo da tantissimo tempo, vediamo segretaria telefonica segretaria telefonica, mi dispiace, non ti ho trovata questa ragazza mi ha scritto, c'è Nicole, il mio numero di cellulare è questo spero con tutto il cuore che tu possa chiamarmi, mi ha lasciato cuoricini, cuoricini quindi proviamo, speriamo di essere più fortunati suona pronto? pronto, ciao pronto? pronto, mi senti? si, di chi è? si, ciao, segui qualche youtuber per caso? eeeh, si, perché ma in questo momento, mi scusi, non posso parlare, sto pensando in un volo ah, va bene, no, sono, mi hai lasciato il tuo numero in direct su Instagram come, scusi? mi hai lasciato il tuo numero in direct su Instagram per il video I call you, sono Nicole oddio, ciao Nicole ciao, mi stavi dando del lace si, sto per prendere un volo in questo momento oddio, scusami no, no, non ti preoccupare, donna mia grazie grazie ti voglio, ti tengo anche a mandarti comunque un grosso passo da parte di mia mamma perché anche lei mi segue tantissimo oddio, mitica grazie, salutela tanto 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 da parte mia, ringrazia, la grazie anche a te davvero di cuore perché se non fosse per voi non sarei neanche qua in questo momento, ecco, quindi a fare quello che sto facendo, quindi tutto merito vostro no, Nico, veramente, ti vorrei farmi complimenti e tutto anche auguri comunque per il tuo matrimonio grazie a te, grazie tesoro ho visto anche il video su YouTube bellissimo, veramente ti è piaciuto? bellissimo, Nico, veramente bellissimo, stupendo sono super super contenta grazie grazie continuo a cucire perché è veramente si bravissima, dico veramente, grazie, è un sogno, per me questo non ci credo, veramente ancora adesso non ci credo sono così come le dite all'acqua che sicuramente ti avranno lasciato in Italia, cioè proprio è il mio sì e mi hai lasciato tutti i cuoricini e quindi ho detto ti chiamo oddio, veramente, cioè stupendo non solo senza parole, veramente grazie tesoro, sono contenta che tu sia contenta, non so come dire, scusami ma sono emozionatissima anch'io, come puoi immaginare grazie, grazie mille un bacio grande, un abbraccio forte e buon volo anche a te Nico, in bocca al topo per tutto grazie Crepi saluta anche Tomas lo farò lo farò, Gatto Deber è qua davanti a me te li saluto, grazie un bacio forte, Nico ciao, ciao, ciao che carina, oddio, cioè mi non sapevo cosa dire, ero troppo super emozionata, mamma mia cioè questa cosa è bellissima ringrazio tantissimo la ragazza che mi ha dato non so chi mi ha dato quest'idea per Ico, Liu ma in un paio mi avete scritto con quest'idea e vi ringrazio di cuore davvero perché è bellissimo cioè telefonarvi, sentirvi è bellissimo, è bellissimo non ho parole, io quando mi emoziono non riesco ad esternare comunque è stato bellissimo ok, c'è un'altra ragazza che mi ha scritto il suo numero mi ha scritto ci spero tanto con i bacini e quindi chiamiamo lei mamma mia che ansia suona non ce l'ha non ha risposto, mi dispiace, cavolo questa ragazza mi ha scritto oh my god, scegli me, ti prego quindi ti accontentiamo subito speriamo che tu risponda non mi sta rispondendo nessuno team, servizio di segretaria telefoni non ci posso credere non c'è nessuno com'è sta cosa tutta la segretaria nessuno risponde la segretaria telefonica di non ci posso credere non riesco a trovare nessuno ma com'è possibile ragazzi vi prego avete tutto il cellulare spento ma dove andate? dove siete? pronto? pronto? ciao pronto? pronto? mi senti? si chi è? ciao segui qualche youtuber per caso? come scusami? segui qualche youtuber per caso? Nicole si sono io ciao come ti chiami? rinanette rinanette che bel nome si oh wow oddio pensavo che era uno di quei call center no no poverina no no terrorizzata no invece no sono io sono io sono io scusami anch'io sono emozionatissima sai io che emozione ha detto vabbè non mi chiamerà mai ichi pro e invece hai visto con il numero privato ho detto sei la mamma invece no eh no mi hai riconosciuto subito sei stata bravissima si ma perché ti seguo da anni da quanto? ti seguo da tutti i giorni eh da sempre oddio grazie ho visto i video quindi dalla voce ho detto no è lei eh io ho questo accento inconfondibile che devo dire insomma è bello è bello che tu comunque rimani in contatto con le tue fammi guarda questa idea di fare non sempre dimmi dimmi no dicevo non sempre sai le youtuber sono così in contatto con le followers invece con te è diverso nel senso che comunque hai un approccio con chi ti segue e questa è una cosa proprio bella perché eh non mi piace e non ci fai sentire dei nomi per lo meno io non sono un numero ci mancherebbe altro e non è e non è da tutti capito grazie oddio questo è un complimento bellissimo che mi hai fatto il complimento più bello davvero che potevi farmi quindi ti ringrazio tanto perché non è non è facile ma io ci provo sempre a rispondere magari se non riesco a rispondere a tutti almeno metto un cuoricino ma tanto per farvi sapere che comunque leggo che comunque ci sono ecco non è che metto il video e poi chi se ne frega cioè comunque sto là ecco questo è importante per me che voi lo sappiate magari a volte c'è qualche domanda e non rispondo perché magari non riesco però comunque metto un cuoricino per far capire che leggo no? questo è importante grazie io ti abbraccio forte 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 grazie grazie un bacio e un abbraccio ciao tesoro ciao grazie ciao grazie a te ciao ciao che carina oddio abbiamo chiacchierato tantissimo siete troppo tenere questa ragazza mi seguiva tipo dall'alba dei tempi oddio che bello mi hai fatto un sacco di complimenti no vi giuro ho una botta di autostima se io sono triste ho una giornata no che mi succede spesso e posso veramente fare un ai con gli u e mi risollevate il morale subito siete fantastiche non mi risponde nessuno risponde la segreteria e telefoni sono tristissima non mi sta rispondendo nessuno pronto? pronto? mi ha chiuso no vi giuro mi sto sentendo male prima ero alle stelle adesso non mi risponde nessuno mi schietto anche che ci tieni ma poi io ti chiamo e tu mi chiudi il telefono mannaggia Vodafone servizio di segreteria telefono io non ci posso credere non c'è nessuno e vi giuro sono le 4 e 20 di pomeriggio eh non è che sono le 4 di notte che sto chiamando la cena alle 4 e 20 di pomeriggio non c'è nessuno ragazzi pronto? pronto? mi ha chiuso il telefono ragazzi io vi telefono ma voi 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 mi chiudete il telefono io non so cosa fare sentite la mia voce chiudete vi spavento non lo so ma mi chiudete il telefono proviamo a richiamare lo stesso numero proviamo a richiamare lo stesso numero sta diventando un video scherzi telefonici questo ciao ciao non mi riconosci? mi hai lasciato il tuo numero su direct su instagram oddio sto scherzando no non sto scherzando sono Nicole te lo dico prima che tu mi chiudo il telefono di nuovo scusami non ti preoccupare oddio me lo aspettavo proprio eh immaginavo tutto bene benissimo grazie e tu come ti chiami? Ludovica Ludovica ciao guarda anch'io sono molto emozionata quindi non ti preoccupare vuoi dire qualcosa a chi ci segue su youtube? perchè logicamente sto registrando c'è uno speciale 500.000 iscritti ehm non lo so ragazzi seguite questa ragazza perchè è bravissima io la seguo da un sacco di tempo e non lo so è dolcissima bravissima e da un sacco di consigli molto utili grazie che carina che sei mamma mia vorrei abbracciarti anch'io credo chiami quali sono i tuoi video preferiti se hai qualche domanda da farmi che magari non ti ho risposto nei commenti adesso puoi farmela dal vivo quello che vuoi allora in assoluto il mio video preferito è un po' vecchio quello con Gatto Denver oddio il video che ho fatto come l'ho chiamato? il mio morosetto peloso? si esatto davvero? io lo adoro ho Gatto Denver il video del matrimonio mi sto tipo qualcosa come una decina di volte grazie grazie mi dispiace che ho fatto un intro così lungo in quel video e non mi sono resa conto ho detto farò breve sarò breve poi invece no è sempre piacere sentirti grazie grazie che carina amore grazie grazie di cuore grazie che mi segui perché per me significa tanto tanto e ti abbraccio fortissimo fino a Napoli ciao ciao bacione grande grazie scusami ancora non ti preoccupare un bacio grandissimo ciao ciao l'inquadratura è cambiata di nuovo ho cambiato il nuovo videocamera perché un po' si è caricata questa lotteria ma si sta scaricando l'altra oggi veramente sono un disastro però almeno sono contenta che alcuni di voi stanno rispondendo quindi questo è già positivo che questo avevo paura che mi mandasse a quel paese la mamma mia quando l'ho richiamata io non ce la posso fare pronto? pronto? mi senti? pronto? chi c'è? mi hai lasciato il tuo numero in direct su Instagram una youtuber no non è vero eh si sono Nicole oddio è lo stesso vero? no tesoro mi hai lasciato il numero ti sto chiamando è lo special per i 500.000 iscritti siamo davanti alla videocamera in questo momento oddio ciao ciao come stai? bene grazie e tu come stai? non essere emozionata perché già lo sono io se no lo siamo entrambe come ti chiami? Anna Paola Anna Paola ciao grazie che mi segui grazie a te quali sono i tuoi video preferiti? raccontami che sono curiosa tutti 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 sì però il mio preferito è stato quello del matrimonio oh grazie e beh anche il mio preferito devo dirti la verità che anche il mio preferito è stato quello anche se l'intro era lunghissimissimissimo non fa niente mi sono sentita tanto in coppa ho detto no lo farò breve e dopo è venuto tipo mezz'ora sì sì io penso che fosse tipo uno scherzo per questo non rispondevo però ah non ti preoccupare non ti preoccupare la ragazza di prima mi ha chiuso il telefono in faccia ma perché capisco vedi che c'è nuvolo privato e non sai cosa pensare lo so non ti preoccupare io sono già felice di parlare con alcune di voi e di sentirvi perché è davvero bellissimo un bacio grandissimo e un abbraccio grazie che mi segui grazie anche a te grazie a te ciao 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 oh questa ragazza era timidissima però mi ha scritto ti prego chiamami quindi spero davvero che le abbia fatto piacere era timidissima sapeva cosa chiedere poi anch'io sono timida di mio ma devo cercare di perché sennò qui non parliamo quindi devo comunque cercare di svolzarmi e sono emozionatissima e lei è emozionatissima però dolcissime siete tutte dolcissime io ho veramente le follow il migliorio del mondo siete tutte super super carine oddio pronto? pronto ciao ciao sai chi sono? no mi hai lasciato il tuo numero su direct su instagram segui qualche youtuber magari mi ha chiuso il telefono ma come mi hai lasciato il tuo numero 50 volte dicendomi che vuoi assolutamente sentire la mia voce io ti chiamo e tu mi chiudi il telefono io non ci posso credere ragazzi un po' pronto ciao si che è? e segui qualche youtuber per caso mi hai lasciato il tuo numero su direct su instagram si per il video i call you si secondo te chi sono? ricordo ciao ciao tutto bene tutto bene tu come stai? bene grazie come ti chiami? roberta ciao roberta sei fantastica grazie 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 sei carinissima raccontami quali sono i tuoi video preferiti hai qualche richiesta da farmi qualsiasi cosa ehm adoro quando ho altri trucchi ok quindi tipo i make up tutorial i get ready with me ok mi fa piacere grazie mi fa super piacere grazie no no mi fa super piacere grazie a te che mi segui guarda anche io sono emozionatissima perché anche per me è la prima volta che vi telefono quindi anche io non so cosa dire perché sono super super davvero emozionata però felicissima di sentire la tua voce la vostra voce che mi seguite è proprio bellissimo bellissimo hai qualche richiesta per qualche video in particolare qualcosa che vuoi chiedermi qualche curiosità che magari mi hai lasciato qualche commento e non sono riuscita a risponderti adesso puoi farmi tutte le domande che vuoi ehm qualche video in più sul make up tutorial ok quindi qualche tutorial in più qualche video mentre mi trucco ok va bene e l'ultimo l'hai visto quello che ho messo due giorni fa? si si ti è piaciuto? si bene mi fa piacere su instagram niente io ti mando un abbraccio grandissimo grazie a te che mi segui e e niente spero di leggere qualche tuo commento insomma dai magari quando ti vedi nel video senti la tua voce mi lasci un commentino mi farebbe piacere si Nicole va bene ti mando un bacio grandissimissimo un bacione ciao tesoro grazie ciao grazie a te ciao 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 pronto? pronto ciao 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 segui qualche youtuber tu per caso? si mi hai lasciato il tuo numero in direct su instagram? si per lo speciale 500.000 iscritti? si e quindi sai chi sono? si chi? c'è Nicole e c'è il make up si bravissima bravissima come stai? come ti chiami? bene mi chiamo Alessia ciao Alessia grazie che mi segui vuoi raccontarmi quali sono i tuoi video preferiti? se hai qualche richiesta vorrei sapere? se vuoi vedere qualche video in particolare? dimmi tutto adesso hai la possibilità di dirmi tutto quello che vuoi beh magari non saprei sono molto bella in quei vlog anche quando fai vedere magari dei video un po' improvvisati magari anche quando fai tipo miopi lungo così ecco ah ti piacciono? eh io cambio casa spesso ahimè guarda l'home tour dovrebbe arrivare la prossima settimana della casa nuova quindi ti piacerà allora ti piacerà che tra l'altro credo sia la casa più grande che vi ho fatto vedere fino adesso quindi sarà anche bello lungo quel video ecco prevedo ti mando un abbraccio grandissimo e un bacione enorme fino a Mantua grazie ok ciao tesoro ciao ciao che carina oddio siete troppo carine ho adorato filmare questo video spero di aver chiamato abbastanza io ho chiamato veramente un sacco un sacco di numeri trentina di numeri ho chiamato ma in poche mi hanno risposto ma spero che vi sia piaciuto questo video a me è piaciuto tantissimo sentirvi devo dire questo è forse uno di quei video che è stato più bello per me che per voi non voglio dire che gli altri video appunto è più bello per voi che per me filmarli perché mi piace sempre filmare però questo video è stato un piacere proprio mio personale sentirvi chiamarvi è stato bellissimo grazie a tutte le ragazze che mi hanno risposto non vi preoccupate se avevate la segreteria o se mi avete messo giù il telefono non vi preoccupate posso capirvi quindi io vi ringrazio tanto tanto che mi seguite se non ho chiamato proprio voi in questo video mi dispiace ma farò altri I call you se questo vi piace ne farò altri io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao